Un grande evento di solidarietà umana per il quale io ringrazio gli artisti e per la sensibilità che hanno dimostrato. Vedete, la Romagna è un luogo identitario del carattere italiano. Quando noi siamo chiamati storicamente a definire il carattere degli italiani, non possiamo prescindere da questa terra, che è una terra nobile, soprattutto densa di persone che hanno capacità di fare, che hanno voglia di fare, lo stanno dimostrando in questi giorni, le spiagge della Romagna sono già tutte quante operative. Io mi devo prendere cura del patrimonio artistico-culturale, lo abbiamo fatto nelle ore immediatamente successive alla tragedia dell'alluvione, teniamo una riunione qui al Ministero e nel decreto noi abbiamo inserito il rincaro di un euro dei biglietti di tutti i musei italiani dal 15 giugno al 15 settembre e questi fondi saranno esclusivamente destinati a quelle opere di intervento che stiamo già definendo in Emilia-Romagna per salvare teatri, biblioteche, libri che sono andati danneggiati, per ripristinare i luoghi e anzi addirittura migliorarne la funzionalità culturale. Quindi un grande evento di solidarietà che accende i riflettori su questa terra nobile, sulle sue urgenze che sono anche le nostre urgenze.